Siamo interessati a vedere il giornale di diaglio, devo prenderlo, se ti suossi un attimo, devi trovare un po' di aglio buono, così. Ecco qua. Siamo interessati a questo, il giornale non si infogliato, perché è sicurissimo aver revocato o di fatto non risopratto il colloquio, è stato un po' bellissimo. Se vuoi fare anche, pulire le alici, ma poi è pulissimo. Quindi non vuoi farle? Eh no, poi io bisogna che stiamo in due ore, per domani. Devo stare in mezzo giornale, se non non è tutto. Allora, io devo... Sì, è qua. Sì, è qua. Sì, è qua. Sì, è qua. Guardali. Sì, è qua. Ho detto, guarda. So che la manca la legge è pure io, non è l'unica di grazia, io la faccio. Che qua? Ho detto? Oddio. Adesso, secondo me è questa. Di c'è la notizia della Roma che si guarda... Non ho incontrato? No, quello è davvero, è davvero la tretta. Mi sono attesa, ma... ... excel, daraito vero. 2.200, credo a 15 aprile. Dovrebbe essere di conoscenza. Ma... ...